Un attacco concreto, un attacco inteso a paralizzare, a criptare i dati e a chiedere riscatto. Ecco queste parole che Domenico Laforenza, informatico italiano, spiega ai nostri microfoni. Il perché dell'attacco hacker alle ferrovie dello Stato, che ha mandato in tilt le biglietterie e i sistemi di informazione in tutte le stazioni d'Italia. Il luogo dell'input dell'azione è sconosciuto e non è detto. Che arrivi dalla Russia, quel che è sicuro è che è stato chiesto un riscatto per i dati. Si parla di 5 milioni di euro, ci sono diverse notizie in merito. Non c'è un dato ancora fermo e oggettivo che questo possa prevenire dalla Russia in base anche agli avvenimenti che sono avvenuti in queste ore. Questo è un primo punto fondamentale. In ogni caso, dice Laforenza, la guerra è in atto. Si combatte anche da un punto di vista informatico. Questa direzione sia dalla Russia verso siti esterni alla Russia, da parte anche delle forze ucraine e non solo ucraine. Per esempio c'è anche Anonymous che si sta attivando in questa direzione. Questo ovviamente fa parte di una strategia che mira a due grandi target e obiettivi. Il primo è attaccare gli obiettivi importanti e paralizzarli. Banche, sistemi di comunicazione, sistemi di energie e così via. Il secondo è la disinformazione. Deep fakes che praticamente fa vedere che Zelensky dice arrendetevi. In realtà non è Zelensky che parla ma è una sua ricostruzione facciale con parole dette da altri. Come ci possiamo difendere? Allora, le difese a livello nazionale sono messe in atto attraverso le grandi strategie. In Italia noi abbiamo il perimetro nazionale per la cybersicurezza. Poi ci sono le questioni legate ai cittadini. I cittadini devono rendersi conto che sono target, sono obiettivi da parte di chi vuole spillare dati e spillare soldi. Password più robuste. Non dirla a nessuno. Fare backup. Aggiornare i sistemi in modo tale che non ci siano vulnerabilità. E poi tanta fortuna.